io non so da dove iniziare sono sincero perdonatemi perché sarà un post partita molto particolare per una partita molto particolare mi gioco subito il titolo rimontero perché l'ho letto prima in chat su twitch rimontero è stato veramente geniale 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 allora con molta calma con molta calma una partita stranissima alla fine della fiera devo dirvi la verità sono contento sono contento perché io questa sera dal finale mi porto a casa tante cose però al finale lo vorrei tenere per la fine vi dico subito le cose che mi hanno fatto imbestialire si può prendere gol dopo 90 secondi si può assolutamente fare può succedere a maggior ragione dopo queste ore qui dopo queste ore qui dopo 90 secondi puoi prendere gol confermo non succede niente lo metti in preventivo che di scendere in campo con umore un po così perché è successo di tutto ci sta ci sta tutto benissimo però 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 il secondo il terzo gol in quel modulino li puoi prendere il secondo lo prendi lasciando due uomini liberi in area non esiste non esiste lasciare due uomini liberi in area non esiste e il terzo non può andare a concludere il difensore centrale in scavino su un'azione che stavamo facendo noi sono cose che personalmente non posso accettare quella roba lì quindi io mi tolgo per il momento la roba brutta e poi parliamo della roba bella ok quelle cose non mi sono piaciute per niente lei va sotto di tre gola a bologna e questo punto ce lo porta un solo uomo perché questo punto è di un solo uomo state parlando di no non è montero è colpo gobbo è colpo gobbo perché sul mio canale youtube l'altro giorno sabato porto un video insieme a lello per parlare di montero e robe del genere e lui dice montero molto zemaniano che ci sono delle partite in cui puoi perdere 3 a 0 poi le ribalti finiscano 3 a 3 come cacchio hai fatto lello come cacchio hai fatto io gli ho detto ma sì guarda io ho visto gli ultimi 20 minuti della partita col frosione di primavera oggettivamente poteva succedere tutto si poteva fare gol si poteva prendere gol eccetera eccetera però così neanche il diavolo avrebbe scritto un copione del genere neanche il diavolo avrebbe scritto una roba del genere partiamo da capire che cos'è cambiato in questa juve in primis l'atteggiamento perché la juventus va sotto dopo 90 secondi ma i primi 80 secondi sono chiari una linea guida chiara definita e cioè proviamo a non lanciare sempre la palla da cosa si capisce questa cosa dal minuto zero palla per la juve non c'è locatelli che lancia sinistra su rabbiò c'è la juve che gira palla in una maniera disorganizzatissima il primo tempo credo che si possa prendere ed esporre al museo di un museo nel mondo o comunque prendere mettere su un vocabolario alla voce organizzazione contro disorganizzazione lo possiamo veramente il primo tempo è l'icona di organizzazione contro disorganizzazione perché la juve vuole giocare il pallone vuole provare a girarla vuole provare a partire da dietro tant'è che addirittura abbiamo scesni su tante palle da dietro che si predispone per giocare con i piedi cosa che onestamente difficilmente abbiamo visto fare alla juventus montero un allenamento ieri di domenica questo sabato è a froginone con la primavera squalificato domenica mattina è alla continassa fa il primo allenamento con la juventus di domenica il giorno dopo gioca col bologna dei miracoli della storia di tiago motta e gli dice sapete gli ultimi tre anni che avete preso il pallone sparato là non lo facciamo più da domani non lo facciamo allora io avevo pensato potesse cambiare il modulo perché se cambi il modulo ma lasci l'atteggiamento e cioè la palla facciamo fatica a girarla è molto più facile esempio non è più 3 5 2 3 4 2 1 diventa molto più semplice più comoda invece posso dire due cocones così montero che arriva ieri e dice vabbè cambiamo tutto cambiamo tutto vabbè titolari il modulo lasciamo però cambiamo tutto ci vogliono due cocones così e anche secondo me un po di sana incoscienza perché ci vuole anche un po di sana incoscienza questa è la prima cosa che è cambiata la seconda che aggressività della juventus perché anche quando perdeva due o tre a zero la juve soprattutto quando perdeva due a zero nel primo tempo un primo tempo che oggettivamente ragazzi mi ha dato delle vibes di empoli 4 juventus 1 e quando ho fatto gol chiesa mi sono anche un po fermato il cuore perché proprio lì chiesa fece gol ed eravamo 3 1 per il bologna ho detto ecco fanno il quarto però anche e soprattutto nel primo tempo quando la juventus comunque era sotto di due io notavo questa aggressività della juve che ha fatto veramente una partita dal punto di vista fisico se non è folle adesso io non ho i dati sott'occhio sono curioso di andare a reperire i dati della serie a sono curiosissimo di andare a reperire i dati della serie a secondo me la juventus ha fatto una partita folle dal punto di vista dei chilometri percorsi del fiato speso eccetera eccetera quella è stata una roba che non mi aspettavo neanche potesse fare perché si vede che comunque quella la juve questa roba qui dentro ce l'aveva ce l'aveva davvero doveva solo andarsela a prendere e secondo me si è sbloccata la juventus come quando togli il tappo no dalla potere vino è quella roba lì perché quando sei sotto di tre e sei morto e puoi provare anche cose che non avevi ancora mai provato in stagione quante volte ci siamo detti è così semplice il diz a sinistra chiesa destra diamo ampiezza e facciamoli giocare così cioè per mesi ci siamo raccontati che era una cosa tanto banale quanto potenzialmente efficace e io credo che stasera se ne sia avuta un po la dimostrazione ma soprattutto perché la juventus qui dopo era libera la serie o peggio di così delle due andiamo avanti andiamo avanti tant'è che il gol di chiesa nasce sì su un errore del bologna ma su chiesa che pressa come un dannato perché pressa come un atto così come il terzo gol di ildis che c'è questa volontà della juventus ad andare ad aggredire il bologna che parte da dietro esattamente come era successo invece nei primi 80 secondi dove la juve lì dietro un po goffa un po impacciata provava a muovere la palla che non aveva mai fatto in stagione bologna a valanga in pressing quindi queste cose qui queste cose qui ragazzi sono cose che dobbiamo portarci a casa mica per questa stagione in serie a e bologna juventus che chi se ne frega potenzialmente di questo bologna juventus ma queste cose qui sono cose importanti per il futuro che non sarà con montero e secondo me è stato disperato per come era partita la sua avventura in serie a la sua avventura sulla panchina della juventus ma sa che gli manca un'altra partita e sarà juventus monza e poi andrà via e io quando perdendo a zero fine primo tempo ho detto io comunque la voglia di andare a vedere juventus juventus monza non vedo comunque l'ora perché voglio vivermi questi momenti e riavvicinarmi a questi momenti qui ho voglia proprio di farlo però per il futuro questi sono spunti importantissimi importantissimi fondamentali questi spunti qua queste risposte di alcuni calciatori perché quando vi dicevo dopo juventus genua a zero a zero è ora di togliere il parafulmine leviamolo leviamolo il parafulmine allegri diamo delle responsabilità a questi giocatori perché stasera non si giocavano niente e secondo me non sono partiti per andare in campo alla morte però poi è venuto fuori montero perché comunque si è avvertito e ve lo ripeto la juve che non palla la juve che pressa costantemente quanti falli ha fatto la juventus tant'è che montero a fine primo tempo fa due cambi miretti e cambiaso e perché perché sono due muniti della juve quanti falli quanti falli ha collezionato la juventus quanti falli ha fatto quanti gialli ha preso stasera c'era la volontà comunque di picchiare e per quanto sembra incredibile perché ha fatto un allenamento si può e montero non aveva mai fatto una panchina in serie a non stiamo parlando dell'allenatore che rivoluzione il calcio roba del genere no però a sua immagine e somiglianza questa juventus lo è stata anche perché se sapevamo che già la sua primavera era una squadra matta una squadra loca per dirla anche non locatelli loca passa per dirla la sud americana lo abbiamo riscontrato oggettivamente anche nella sua prima panchina in serie a ma soprattutto una squadra che descriva la perfezione quello che è stato il modus operandi di montero su un campo da calcio picchiare legnare far sentire agli avversari tacchetti e allora questa juve qui è partita che sembrava essere rivivere quell'empoli juve 4 a 1 che non era una partita di calcio ma poi ha tirato fuori il roma 3 juventus 4 o juventus 4 juventus 4 napoli 3 con l'autogol di culibali ma soprattutto una partita su tutte mi ha ricordato che è esattamente lo stesso risultato e cioè juventus atalanta 3 a 3 mi ha ricordato juventus atalanta 3 a 3 è simbolica è simbolica perché è la prima partita post prima penalizzazione della juventus e la juventus va in campo e fa una partita di grande aggressività ma anche di grandi imprecisioni difensive che è stata questa solo che noi qua siamo partiti morti e ripeto dopo 90 secondi puoi pure prendere il gol puoi pure prendere il gol perché queste ore sono state folli e puoi anche prendere il gol gli altri due però non li puoi prendere perché poi crescono i rimpianti a maggior ragione del fatto che comunque c'era c'era margine anche perché alla fine tu rischi pure di vincerla questa partita con chiese ildis che dialogano con locatelli che ci abbatta e probabilmente prende alcaras c'è veramente peccato è perché ho visto che questa squadra è viva è clinicamente viva è come quando lo stai perdendo c'è l'elettroshock che proprio c'è ogni tanto e poi libera allora c'è ancora qualcosa di vivo in questa squadra c'è ancora qualcuno che ci crede 4-3-3 healing terzino sinistro di spinta come un terzino moderno deve essere al giorno d'oggi nel calcio di alti livelli addirittura UEA di là però c'è c'è qualcosa di nuovo di inedito che non avevamo ancora mai visto e quando siamo partiti col 3-5-2 anche con degli atteggiamenti diversi però rintanati nelle nostre stesse cose che ormai abbiamo qui quando abbiamo cambiato invece siamo andati abbiamo aperto un nuovo mondo che nasce da qui perché la Juventus principalmente si è sbloccata qui due cose positive al di là della bellissima esultanza di Montero sotto la pioggia che io Montero non l'ho vissuto da calciatore perché quando ho iniziato a seguire io la Juve Montero era andato via da un paio d'anni però conosco la storia di Montero ha fatto una vita alla Juventus simbolico con l'esultanza lì al gol del 3-3 di Hildiz che bella che bella che è che bella è stata proprio una cosa bella ed è stata vi giuro un'emozione bellissima vi voglio portare la clip di come ho esultato anch'io al gol del 3-3 perché c'era qui Nala che dormiva mi sto un po' commovendo perché è proprio una cosa bella l'ho presa in braccio abbiamo esultato abbiamo festeggiato insieme eccetera eccetera è stato un momento bello ma il ritorno di fagioli il ritorno di fagioli in campo dopo la squalifica un'altra cosa bella perché un'altra cosa bella quella lì ma soprattutto io voglio parlare di una tematica che è quella legata ai tifosi della curva perché i tifosi della curva a un certo punto hanno intonato un coro a massimiliano allegri con la juventus che perdeva di due che per me non è una cosa bella non è una cosa fantastica perché allegri oggi è il passato e lì c'è la juve di montero però io credo anche che uno sia libero di fare quello che vuole uno va allo stadio fa quello che vuole pagando il biglietto quindi io non l'avrei fatto però tifosi della curva hanno fatto bene per me se lo sentivano anche perché questa è una ferita aperta per quei tifosi che ancora sono lì che che sono felici della figura di allegri l'avrebbero voluto ancora io e quindi ognuno ha diritto a fare quello che vuole ma al di là del fatto che io possa non essere d'accordo con questa cosa qui io voglio fare i complimenti e ringraziare i ragazzi della curva che sono andati a bologna questa sera che hanno preso tutta quell'acqua io sono in emilia la sto sentendo forse l'ha sentita anche voi e ne hanno presa tanta ed erano lì a cantare per la juventus perché ci sono stati cori per allegri ma ci sono stati tantissimi cori per la juventus ecco io da questa cosa qui voglio ripartire perché forse anche sul 3-0 per la juve è stato il momento veramente più difficile per la nostra tifoseria sfaldata completamente i messaggi allegri qui allegri là noi dobbiamo ritornare sulla juventus e per quanto ognuno ripeto abbia completamente diritto a pensare quello che vuole però la juventus è casa è la nostra roba è il nostro amore è la nostra vecchia signora quindi questi sono i concetti che voglio portarmi a casa da questa sera perché sul 3-0 ero morto proprio arrabbiatissimo anche se non c'entra niente questa partita eccetera eccetera eppure alla fine per questo 3-3 ci sono tanti piccoli spunti positivi ripeto non per questo campionato ma per il futuro quindi torniamo tutti a unirci sotto la grande bandiera bianconera perché abbiamo veramente bisogno di tornare a essere tutti uniti tutti compatti tutti fratelli perché questo è siamo tutti tifosi della juventus quindi un grande grandissimo forza juve e io questa sera mi porto a casa tante belle cose abbiamo fatto anche un bel post partita più lungo del solito perché stasera ci sono state tante cose da dire tante cose brutte tante cose belle però per me sono state più le cose belle rimontero alla grande rimontero è veramente il titolo più bello del mondo ciao a tutti ragazzi e ci vediamo domani con tutti gli altri contenuti post partita